Stanlio e Olio presentano... C'è una sola soluzione. Lo diciamo dopo, testoni. Allora mi raccomando, ho a pranzi conti bagna cauda, quindi fatemi fare bella figura, soprattutto con la minestra. Intesi? Non dubiti, signora Marchesa, sarà servita a puntino. Olio, perché vuoi mettere la Marchesa in puntino? Alla sua età può prendere un raffreddore. Hai ragione, non ci avevo pensato. Cosa mi puoi dire? Su, avanti diamoci da fuori. Tu dammi una mano. Manu, cosa fai? Mi hai detto, tu ti daci una mano. Sei un povero stupido. Metti nella stufa del carbone, chiaro? Sì, Olio. E dove lo prendo, il carbone, chiaro? Non fare lo spiritoso. Tieni, lavora. Oggi mangi un pezzo di carbone. No, Olio, no, il carbone. Mangi il carbone, ti dico. Oh, smettiamola. Vai ad assaggiare quello che è sul fuoco. Sai una cosa, Olio? Quando la Marchesa assaggia questa roba che hai preparato, ti la sbatte sulla faccia. Il fatto è che quella è l'acqua dei piatti, crocchino. Ma allora, come facciamo? Qui sta venendo torri e la Marchesa ha detto di preparare una buona minestra. Oh, per questo c'è una sola soluzione. Preparo un brodo crone. Basta solo un altro crone, un grande brodo. Che soluzione? Il palato raffinato, autisoddisforato. Super brodo di stretto crone, super brodo di qualità. Oramai per un grande brodo solo un crone vi basterà. Super brodo di stretto crone. Il brodo del buon appetito.